E' stato contenuto dai vigili del fuoco all'opera per tutta la notte il grosso incendio che si è sviluppato a Pantelleria nelle ultime ore. Alle prime luci dell'alba è stato autorizzato l'arrivo di due Canadair sullo scenario apocalittico dell'isola Pantesca, dove una serie di grossi eroghi, entrambi di probabile origine dolosa, sono divampati nella serata di ieri intorno alle 19.30, gettando nel terrore residenti e turisti fuggiti in fretta e furia verso il mare e alle barche. I carabinieri pensano ad un'origine dolosa. Si tratta del secondo incendio di vaste dimensioni che devastò l'isola nel 2018. Tra i VIP che hanno dato l'allarme, lo stilista Giorgio Armani, che dalla sua villa ha visto il fumo e poi le fiamme che sono state alimentate, è anche dei forti venti di Scirocco. Lo stilista e gli amici si sono messi in salvo sul suo yacht, mentre gli abitanti della zona sono stati messi in salvo dalle moto vedette della capitane dei riporti e dei carabinieri. Secondo quanto riferito non si segnalano feriti, mentre qualche caso da muso sono stati esternamente colpiti dal fuoco, anche se ancora presto per la conta dei danni. Diverse tettorie in legno e gazebo di ville distrutti dalle fiamme, mentre purtroppo sono andati in fumo ettari di vegetazione, divorati dall'avanzare delle fiamme spinte dal vento e in una zona impervia per le operazioni di spegnimento da terra. In mattinata arrivati anche degli ulteriori rinforzi, dei pompieri imbarcati da Trapani a Darmanforte, che è operativo da ieri sera. I vigili del fuoco sono stati quali uvati dal corpo forestale della protezione civile, mentre la capitaneria di Porto ha prestato soccorso ai turisti. Dopo la grande paura di ieri sera, una notte trascorsa al lavoro a Pantelleria si va verso la normalità. Due canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dove è difficile operare da terra. Il vento è calato e anche le fiamme, il peggio, sembra passato. Così il sindaco Vincenzo Campo fa il punto della situazione nell'isola. Resta il forte dubbio che il rogo abbia origine dolosa, perché, spiega il sindaco, è partito da due punti distanti tra loro, centinaia di metri. Campo auspica che a Pantelleria, come nel 2016, la natura possa coprire l'accaduto e si scoprano i fenomeni di questo atto indegno. A te vigliacqua, voi vigliacchi dico solo che di essere umano o anche animale, non avete nulla, siete solo esseri viventi che calpestate ingiustamente questa terra. Sui profili social del Comune di Pantelleria è stato intanto diramato un ulteriore aggiornamento e si fa appello a eventuali testimoni dell'azione dolosa.